Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui con Football Manager 2018 con il nostro mitico United of Manchester per vedere diverse partite Non so ancora bene quanti e quale, dipende anche molto da come andrà questa semifinale Vorrei andare il più avanti possibile, non finiremo qui l'anno, oddio, non lo so Però soprattutto se arriviamo ai playoff non lo finiremo adesso, ma semmai i playoff li andremo a vedere nel prossimo episodio Però insomma cercherò di andare il più avanti possibile sperando di anche fare cose buone Giochiamo con Alisson, Gibson, Oldness, Hugzak, Buzz Walker, Jones, Calvele, Phillips, Docti e Loft Per fortuna iniziano a ritornare diversi giocatori e questo è veramente molto molto importante Soprattutto per questo finale di campionato La partita precedente ve l'ho saltata, abbiamo vinto 2-1 Siamo sempre a, se non sbaglio, meno 4 dal Salford Salford che raga non si ferma manco se gli spariamo ai giocatori Quindi non lo so, molto probabilmente faremo i playoff come alla fine c'eravamo Diciamo, sapevamo già che quella era la fine nostra Però insomma, speriamo bene fino all'ultimo C'è Wanadio, cross al centro con il lag, segna Bradley Reed purtroppo 1-0 Tamworth, squadra sempre di sesta categoria E in questo caso mi pare nona o decima Sempre del campionato Nord però, quindi è con noi praticamente E incomincia alla grande, non capisco Forse già hanno imparato gli avversari come difendersi dal nostro 4-4-1-1 Speriamo però, in un recupero, speriamo di fare meglio Anche perché siamo in casa, so che a noi non ci va mai benissimo Ehm... giocare in casa Però insomma, c'è Phillips che tenta di testa e poi c'è il gol di Calveley Tanta roba, 1-1, Calveley chiama la calma, chiede calma anche ai tifosi Perché insomma non è un risultato del tutto positivo Perché comunque c'è anche la gara di ritorno Che è comunque molto importante E quindi aver subito gol in casa non è proprio il massimo Perché poi lì anche uno 0-0 porterebbe il Tamworth a praticamente arrivare in finale Quindi insomma, non c'è tanto da tifare Anzi, speriamo di trovare il secondo gol Anche se mi sa che adesso lo trovano loro No, per fortuna c'è Alisson che la para Molto molto bene Dai ragazzi però, stiamo in casa Ci stanno leggermente dominando Dobbiamo sicuramente riprendere il ritmo Diciamo che non siamo molto contenti di quello che stanno facendo Perché effettivamente non stiamo facendo una bella partita Siamo sì sull'1-1 ma il Tamworth non è Gicetto e Salford Quindi è una squadra che sicuramente possiamo battere Ci andrebbe anche relativamente bene il pareggio Per poi provare a vincere lì in casa loro Ma insomma, sarebbe meglio fare il 2-1 e non subirlo Ecco Cioè Reed tenta la botta Per fortuna c'è un'ottima parata di Alisson Che oggi si sta comportando relativamente bene Ogni tanto fa qualche strombolata Ma ci sta alla fine ragazzi Nessuno è perfetto Figuriamoci i giocatori di questa categoria Ovviamente sempre con tutto il rispetto Però a volte veramente fanno delle cappellate Incredibile Incredibili Stiamo attaccando noi Ma senza azioni veramente troppo importanti Quindi vediamo un po' se riusciamo a riprendere il pallino O niente O più che altro se riusciamo a fare il 2-1 Che sarebbe relativamente importante Mettiamo una mischia Hooper In teoria potevo metterlo anche al posto di Walker Mettiamo Irwin E poi direi basta C'è anche Gibson che è abbastanza stanco Ma che è praticamente obbligato a giocare Perché Hill è ancora scassato Infatti porca miseria ragazzi I giocatori nostri Non è facile farli riprendere purtroppo Però se mai arrivassimo in finale Potrebbero essere recuperati Sempre se non si scassano di nuovo C'è Gibson che la passa Hooper Che sbaglia completamente il passaggio C'è Reed C'è il pallone per Wanadio Wanadio per Kelly Kelly cross al centro Bravo Akbass Bravo anche Irwin qui a non perdere il pallone C'è Hooper C'è Luca Loft C'è Jones Dai ragazzi non facciamo strombolate C'è Alisson che la passa Gibson Gibson per Jones Che sbaglia Dai Se inizi a sbagliare pure tu Che tieni in esperienza E una capacità infinita Bello il pallone qui per Luchino Loft Luchino la passa Hooper Hooper tiene palla Hooper sbaglia C'è Uri Bello il pallone per Luchino Luchino era troppo defilato Per fare il gol Anche se avrebbe dovuto provare A tirarla sul secondo palo Però insomma Nisba non fa niente Ripeto Per quanto non sia un risultato del tutto positivo Va bene così E cerchiamo adesso Andiamo a vedere direttamente il ritorno Speriamo di fare anche lì Una buona prestazione Soprattutto di provare a vincerla Per arrivare in finale Finalmente iniziano a tornare Un po' i vari giocatori infortunati La partita contro l'Arro Che te l'abbiamo appareggiata 1-1 Questa qui La partita ancora di FI Trophy Il ritorno Partita veramente molto importante Partita che dobbiamo vincere La giochiamo con Allison Hill Honnold Templeton Akbass Walker Jones Calvelli Phillips Doughty E il buon Luchino Loft Speriamo bene ragazzi Sarebbe veramente Una gran figata Arrivare in finale Anche l'altra partita Quindi quella con Salford E il Mai Vabbè questa E' finita 1-1 Quindi sarà una partita Molto molto interessante Una finale Molto molto interessante Speriamo più che altro Di giocarla noi E quindi assolutamente Dobbiamo fare in primis Un gol Questo è poco ma sicuro Poi se ne riusciamo a fare Anche due o tre E' ancora meglio Giochiamo con La maglia bianca Anche questa Veramente molto molto Figa E c'è Phillips Che attacca sulla destra La passa a Calvelli Docti Per quanto riguarda Il pareggio in campionato Vabbè un attimo solo C'è Jones Docti Docti tiene pala D'altra parte Per il buon Walker Walker sulla sinistra Cerca il cross al centro Luca Loft E poi c'è Il tap in vincente Di Docti Bravo Luca Loft Addirittura di testa Stavo dicendo In campionato si pareggio Non proprio positivissimo Per quanto comunque L'Arrogate E' una squadra di quarta In quarta classifica E comunque non è male Come risultato In quanto comunque Salford Anche ha pareggiato Quindi insomma Ci va più che bene Siamo sempre a meno 4 E attacca I avversari Che ci dobbiamo fa Gol di Shield Qua colpevolissimo Allison L'unica forse Scusa che ha Che non l'ha vista partire Però Insomma Era Non era manco Troppo vicina Qui colpevole Allison Che sta deludendo Devo dire Ogni tanto Fa che cappella Intanto c'è Walker Subito 2 a 1 Gol molto molto importante Io sinceramente Non li so a memoria O meglio Non le conosco bene Le regole Della FI Trophy Se vale il gol fuori casa Questo gol di Phillips È veramente molto molto importante Quello che altro volevo dire È che Jones Diciamo che lo scorso No Due episodi fa Avevo detto Che non sapevo Se rinnovai o meno Il contratto Più che altro È il fatto Che era troppo Vecchio Per Insomma Avere un rinnovo Devo dire la verità Ragazzi Che Jones In questo ultimo periodo Sta avendo un crollo Totale Tant'è che Vabbè Per lo staff Ho solamente Due stelle Ma di velocità Di accelerazione Addirittura È arrivata a 3 Quindi Ora non l'ho messo Irwin Ma secondo me Irwin Avrà un po' più di spazio Tant'è che Quando ha giocato Lui titolare Abbiamo giocato Anche noi Relativamente meglio E vabbè Insomma Io sinceramente Non vedo l'ora Che finisca quest'anno Perché Diciamo poi L'anno prossimo Col mercato Dell'anno prossimo Ci sbizzarriremo Perché praticamente Dobbiamo costruire Una squadra Ex novo Ci saranno solo Qualche Uno Un po' Che avrà un rinnovo Insomma Però poi Il resto Nisba Alla fine Sono 4-5 Giocatori che rimarranno Sarà molto divertente Perché poi Praticamente Dobbiamo comprare Tipo 15 giocatori Lì veramente Ci divertiremo Come ci stiamo divertendo In questa partita Non mi aspettavo Di Vedere un United Giocare così bene Stiamo vincendo 3-1 Gol Adesso di Luchino Loft Tanta tanta roba Si vede che i ragazzi Vogliono la finale E a questo punto Vedremo anche Quando è la finale Anche per decidere Se vederla oggi O nel prossimo episodio Segna di nuovo Shensi Shield Shensi Shield E Diciamo di concentrarsi Insomma Mi sa che forse Dipende molto Da quando la piazzano Questa finale Perché se tipo È ora La vediamo Se invece A fine anno La vediamo Nel prossimo episodio Però ragazzi Non ci deconcentriamo Porca miseria Mi stavo un attimo Agassando Ma qua invece Ci stiamo Mannaggia a questo Shield Mannaggia C'è Reed C'è Berra C'è Wanadio Wanadio E qua Porca miseria Ci dobbiamo un attimo Riprendere Mi ero un attimo Entusiasmato E ho sbagliato Tantissimo C'è Akbass La passa a Philips Akbass Calvelei Calvelei Tiene palla La passa a Cristian Hill Cristian Hill Per Docti Grande 4 a 3 4 a 3 Peccato però Per lo sbadione Perché sinceramente Ci potremmo Gaudire una partita Di gara lunga Più bella Invece Dobbiamo soffrire Perché Insomma Dobbiamo soffrire Insomma Ci piace così Siamo un po' masochisti Però sinceramente Avrei preferito Non esserlo Anche se comunque Di per sé La difesa sta morendo Quindi facciamo due cambi qui Poi vediamo anche Se mandare C'è Mandare via Se sostituire Docti o Calvelei I Calvelei Che vorrei tanto Tenere anche Per la quinta categoria Ma sarà molto Molto difficile Praticamente Per il momento Abbiamo solamente Allison Akbass Hill E Docti Loft Phillips Magari Walker Se si decidesse A rinnovare Facciamo l'ultimo cambio Anche se spero Che oramai La partita Volga a termine Mancano gli ultimi Tre minuti Un minuto e mezzo Vabbè Finita Siamo in finale Sinceramente Non me l'aspettavo Sono curioso adesso Di vedere Salford No Addirittura Salford Viene buttato fuori Credo che però Quella è una squadra Di quinta categoria Veramente ragazzi Bel percorso Io però Non capisco Come mai Le squadre di quinta categoria Abbiano fatto così schifo O è forse Sicuramente Non è chissà quanto varrà Però insomma Sempre una finale Sempre È un risultato Abbastanza importante Sempre Insomma Non ci fa schifo Una cosa del genere Voglio vedere Sì è una squadra Di quinta categoria Quindi Tanta tanta roba Sarà una finale Veramente molto bella Finale che sarà Il 20 di maggio Quindi la andremo a vedere Nel prossimo episodio Ora come ora Invece ragazzi Vi salterò un po' Di partite Ne andremo a vedere Giusto una o due Quindi che ne so Con il Darlight O non l'Alfredon Dipende anche molto Da che posizione Avremo In quel momento E poi non lo so La finale sicuramente La andremo a vedere Nel prossimo episodio Come credo anche I playoff E quindi Speriamo più che altro Di arrivare primi Poi insomma Se invece saranno playoff Ovviamente andremo a vedere Questi Anche quelli E cercheremo di fare Tutti in un unico episodio Se ci sarà invece Solamente la finale Da vedere Vedremo la finale Ovviamente anche Parleremo di mercato E inizieremo un po' A pensare Cosa fare Ragazzi Dopo la semifinale Della F5 Trophy È stato veramente Un periodo d'oro Perché praticamente L'abbiamo vinte tutte E questo 4-4-1-1 Sta ingranando Veramente benissimo Come di par sé Anche nella mia Carriera off screen Abbiamo vinto La prima 3-1 Poi 4-0 È stata una partita Veramente stupenda Con la doppia Di Luca Loft E poi vabbè Altri risultati Molto molto interessanti Soprattutto questo Col Tamworth Infatti pensavo Di perderla Questa Perché ho detto Vabbè Dopo tanti risultati Unili Sicuramente arriva la sconfitta Invece no Arriva il golletto Di Jason Gilchrist In campionato Siamo quindi primi A più 5 Da Salford Però mancano 3 partite Scusate E quindi niente Dobbiamo cercare Di vincere Continuare a vincere Per passare direttamente Non sarà facile Perché ovviamente Vi ho lasciato Le due partite Più difficili E questa È quella Con l'Alfredon E poi l'ultima Insomma Quella con la 22esima In classifica Dovrebbe essere relativamente Più easy Quindi Molto dipenderà Da noi Abbiamo fatto Veramente un miracolo Vincendo Un 4 partite Tutte di fila Però adesso Dobbiamo Fare il passo Successivo Cioè quello Di mantenere Il primato Non sarà facile Perché ripeto Le squadre Che incontreremo Non saranno Non sono Scarse Però tendenzialmente Ci basterebbe Vincere almeno Una Fra queste due Perché poi L'ultima partita Almeno di Proprio Grandissimi Cali Grandissimo Il gol Di grandi Cali Ah no Autorete Non dovremmo Perdela Facciamo gli scongiuri Tant'è che ragazzi Sinceramente Se questa La vinciamo Potrei anche saltarvi Quella con l'Alfredon E andiamo a vedere Poi All'ultimo Cosa succede Anche perché Non vorrei fare Un video abnorme Anche perché Ammetto che sto Giocando da parecchio Per Portare avanti Questa carriera Perché Mi sono fissato Che dovevamo Finirla In poco tempo E quindi Niente Quando mi fisso Insomma Cioè così Anche perché Comunque non volevo Portare fin troppo Per le lunghe Questo anno Lo stesso Comunque faremo Per le altre categorie Che secondo me Inizia 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 Inizieremo A Sicuramente Divertirci Di più Con anche Nuovi nomi Già dalla Terza categoria Che conosciamo Anche abbastanza bene Grazie al nostro Bel Wigan Sicuramente Lì ci saranno Giocatori più importanti Più conosciuti E più Interessanti Da allenare Tanto c'è Alisson Manco a pagare Si Si para un rigore Però vabbè Per il momento Anche Salford Sta pareggiando Se finisse così A noi Se finisse così Al Salford Sarei Veramente Molto Molto Contento Intanto c'è Alisson Che la spara in avanti Cerchiamo però Igualmente di vincere C'è Williams Che la passa indietro A Prince C'è Il difensore Ancora del Darlighton Che Imposta C'è Gilles Waley E Palo Che fortuna Poi Acbas La spara fuori Periodo Un periodo Un momento Della partita Molto brutto Per i nostri Ribelli E quindi Cerchiamo di Assolutamente Riprendere il pallino Del gioco Sono adesso curioso Di vedere un attimo Il Salford Ancora 0 a 0 Però vabbè Basterebbe veramente Un'inerzia Per vincere Sia noi Sia loro Sia anche Il Darlighton Quindi Cerchiamo di vincere In primis noi E speriamo bene Anche per quell'altra partita Continuate a giocare Il risultato Arriverà Per quanto In teoria Avrei dovuto dire Che stanno Scendo abbastanza Schifo Però non posso Manco dire Praticamente Sempre la stessa cosa E quindi Niente Anche se comunque Il discorso Avuto Non ha avuto Molto Molto successo Andiamo a controllare Il Salford Ancora 0 a 0 Noi siamo ancora A più 5 Sarebbe un risultato Un doppio Ma fanciulo Non parlo più ragazzi Domandiamo di più Alla squadra Buttiamo fuori Calveley E mettiamo Il buon Jones Mettiamo Irwin Incontrista E Chi altro Possiamo togliere In teoria anche Yux è abbastanza stanco Anche Doughty Però vabbè Per il momento Lasciamo così Per il momento Proviamo a fare Qualcosina in più Anche se attaccano loro E Calveley Si fa espellere Questa è un'espulsione Molto molto pesante Perché è un giocatore Molto molto importante E Ci renderà la vita Difficile Per la partita Contro L'Alfridon Questo è un bel problema E Mannaggia a te Mannaggia E vabbè Che domiamo fa Arrangiamoci così E vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Il Salford Vince ancora Sì Purtroppo sì Ragazzi Che ci dobbiamo fare Andremo così A meno tre Cioè a più tre Scusate Tendenzialmente Poi Ci basterebbe Anche pareggiare Quelle con l'Alfridon Per Vincere Più o meno Perché poi Andremo Dovremmo vincere Poi l'ultima L'ultima partita Quella un po' Più facile No vabbè Ragazzi No vabbè Ragazzi Che sfiga Che sfiga Adesso quella Con l'Alfridon La dobbiamo Per forza Vincere Porca miseria Che errore Ragazzi L'errore Veramente Madornale C'è Il La passa Walker Walker D'altra parte No raga Stelrore Proprio ci è costato caro Ci costerà carissimo Il Salford Ovviamente Vince Col gol di Redshow Dagli Loft Dagli No Qua proprio Ha sbagliato Pure lui Alla grande Mannaccia Alla pupazza Mannaccia Siamo già in campo Mi ero dimenticato Di mettere a registrare Siamo contro l'Alfridon E Già potete capire L'ansia Perché è una partita Molto molto importante Avevamo due match point Il primo è stato Clamorosamente fallito Adesso c'è questo secondo E dove dobbiamo sperare O di vincere O in un Almeno pareggio Del Salford Quindi Sarà una partita Veramente Troppo 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 importante Anche perché il Salford Giocherà con una squadra Che è tredicesima In classifica Quindi praticamente Non ha nulla da dire Il Boston Unire E quindi Dobbiamo pensare a noi Soprattutto Dobbiamo pensare a Lucchino Loft Che però tira Addosso al portiere Era fin troppo defilato Non poteva di certo fare Chissà che cosa Però Almeno stiamo attaccando Strano che non ci sia Molta gente Anche perché bene o male Comunque l'Alfridon Non ha molto da dire Oramai non può arrivare primo Ed è comunque Già in playoff Quindi in teoria Ci potrebbe anche far vincere In teoria Però Può essere pure Che ti fanno Salford Ed infatti Attaccano con Ufo Su c'è Twine Twine si accentra Bravo qui il nostro difensore C'è Thompson Cross al centro Spazziamo fuori C'è Jones C'è Lucchino Loft Che forse può innescare Un contropiede Dai e Lucchino Dai e Lucchino C'è Walker sulla sinistra Walker per Docti Docti Tiene ancora palla C'è Irwin Irwin per Jones Jones per Docti C'è Luca Loft Calcio di rigore E adesso speriamo Di segnarlo Assolutamente Vorrei farlo battere a lui Infatti lo batte Direttamente lui Mi raccomando Non sbagliare Non sbagliare Lucchino 1-0 1-0 Importantissimo Che 29esima Rite stagionale Raga ma che mostro è Mamma mia Che mostro E tanta tanta roba 1-0 E assolutamente Ho domandato di più Perché non ci dobbiamo Abbattere Dobbiamo continuare A giocare E anzi Se riuscissimo a fare il secondo gol Sarebbe ancora Più bello Anche se adesso attaccano a loro Con Ofosu Sulla fascia destra Ofosu Ofosu Bravo Irwin No Il Scusate Che anche se con un pestone L'ha fermato molto bene C'è Phillips Per Luca Loft Luca Loft Tira una sciavattata E ancora 1-0 Per il nostro buono United Sono a questo punto curioso Anche di vedere Il Salford Che sta pareggiando Andremo a più 4 E sarebbe Conquistare il titolo Però vabbè raga C'è ancora Una C'è una Metà Un tempo e mezzo Ancora da giocare Quindi non possiamo Assolutamente Cantare vittoria Dico alla squadra Di concentrarsi Perché basta Proprio un'inerzia Per mandare tutto A Cosiddette puttane Quindi Nisba Vediamo un po' C'è Templeton Che è veramente Stanchissimo E quindi Nulla Dobbiamo vedere Se cambiarlo Poi con Diciamo Farebbe stare Molto più calmi Molto più sereni C'è il calcio d'angolo Di Jones C'è Docti Che si accentra No Fa una grandissima Stronzata C'è Akbass Akbass Per Ofosu Ofosu Si accentra Ofosu Che bel gol Ma che gran cretini Che siamo stati Che gran cretini Che siamo stati Molto Molto ingenui Qui Veramente stupidissimi Domandiamo di più Ai ragazzi Che Hanno buttato Al vento Una promozione Nel senso che Comunque Già potremmo essere Più sicuri Stafford 2 a 1 Dai Raga Ma che Che sfiga Ma che ci ha messo 30 secondi Per Diciamo perdere Mettiamo Hooper Elliot Raga E qua Viene espulso Giochiamo Tutto per tutto Se me lo fa fare Lo giochiamo così Ragazzi Non me ne frega Proprio Mettiamo Hooper qua Leghiamo Phillips E mettiamo Jason Gilchrist E vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Mettiamo i due centri Avanti Mettiamo tutto Per tutto E a questo punto Ragazzi L'unica cosa Che possiamo fare Giochiamo così Speriamo di trovare Il secondo gol All'ultimo Che sfiga Porca miseria Sufford 2 a 1 Trovati in 4 minuti Attaccano loro C'è Kei Kei Dai ragazzi Hooper La passa Luca Loft Bello il palone Per Jason Gilchrist Non perderlo Ancora Jason Gilchrist Luca Loft Che cazzo Mi sbagli Dai raga Porca miseria Forse l'ultima azione Non lo so bene C'è Elliot Che la spara in avanti C'è East Bravo Hill Alisson Alisson Akbass Jones Jones Bello il pallone Per nessuno C'è Hooper Gilchrist Di prego ragazzi Nulla Nulla proprio Parla a chi? A noi? Sì ma è finita Credo C'è Hill Hill La passa Jones Sparala in avanti Porca miseria Manca 20 secondi C'è Luca Loft Passa a Jason No raga Akbass Ok Ancora Akbass Akbass E' la bucca Buonanotte Vabbè raga Mi sa che dobbiamo sperare In un miracolo Nell'ultima partita Dobbiamo sperare In un loro pareggio Non lo so nemmeno io Che sfiga ragazzi Non ci credo Due match point Tutte e due sbagliati Che pa... Raga sono metà felicissimo Metà molto deluso Dalla squadra Perché abbiamo sbagliato Due match point L'ultima partita L'abbiamo vinta Facilmente E ammetto Con grande Grande serenità Che abbiamo avuto Anche un culo pazzesco Perché il Salford Ha perso Due a uno L'ultima gara E... Devo dire Che c'è andata Veramente Molto molto Di lusso Anche perché Era contro Il Levington Squadra che praticamente Non aveva più nulla Da dire E quindi niente ragazzi Mi spiace O meglio Sono felicissimo Della promozione Diretta Mi spiace Averla vinta così Perché sinceramente Avrei Sinceramente Preferito Giocare Sicuramente meglio Intanto Già possiamo vedere Un budget In gaggi Quasi raddoppiato Perché prima era 275.000 Adesso sono 425.000 Niente male 275.000 euro Con il rinnovo Contrattuale Che praticamente Già abbiamo fatto E ripeto Niente male Ripeto Un po' mi dispiace Solamente per questo fatto Perché La squadra Un po' ha deluso Sinceramente Però per fortuna Siamo stati Molto molto fortunati Io già stavo pensando Ai playoff Praticamente Già mi stavo preparando Per registrare Il video Ai playoff Invece no C'è andata molto di russo E meglio così Una volta tanto Una botta di culo Ci sta pure Abbiamo addirittura C'è stata la tripletta Di templeton Una partita veramente assurda Devo anche essere sinceri Non è che l'ho vista Molto con attenzione Perché Ero più Diciamo Preso a vedere La partita Col Salford A questo punto Ve l'avrei fatta Anche vedere Però insomma Non Ve l'ho saltata Perché Perché non pensavo Che il Salford Perdesse Comunque meglio per noi Tanta 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 roba E niente Io vi saluto Perché già il video Credo che sia durato molto E spero che comunque Vi sia piaciuto Spero che vi faccia piacere Questa promozione Nonostante Le ultime due partite Veramente pessime L'ultima di campionata Invece è andata molto bene Nel prossimo episodio Andremo a vedere Le FI Trophy Poi non so Se parleremo anche di mercato Poi ne parleremo Successivamente Anche perché Ci sarà veramente Tanto 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 Da dire Detto ciò ragazzi Come sempre lasciate un bel like Commentate Condividete Mettete mi piace La pagina Facebook Finalmente arriviamo In quanta categoria E sarà sicuramente Un campionato molto Molto interessante E nulla ragazzi Come sempre Un saluto Da Mike94 Ovviamente anche Da Football Manager Italia Ciao ragazzi